e se piove saranno pure i cazzi tuoi e se a finire che gli temoti tenga prestato pure un umbrello tanto per intenderci, tanto per capirci allora se ne andate la giornata e vado a un cinema vado al cinema al Policenter conosco il Policenter perché qua a Lanciano ci sta un cinema come no ci sono 20 sale qua dentro a Lanciano ci sta un cinema a Lanciano città, dove sta? a Santa Rita a dove sta Santa Rita? quartiere Santa Rita e dove sta sto quartiere Santa Rita? è dentro a Lanciano qua ci sta il quartiere Santa Rita e dove rimane? mi fate capire dove sta sto Santa Rita adesso dategli una cartina mi hanno detto che sta un chilometro è un altro Policenter che sta un chilometro da Lanciano a parte che io non lo sapevo ma non è questo il problema lascia per io so che c'è il Policenter sotto là dove si sta vicino all'ingresso dell'autostrada tu vai là vado ad arrivare là per vedere un cinema per aspettare le sette e mezza certamente il cinema incomincia alle 18.30 eh alle 18.30 primo spettacolo ma perché è normale secondo te? è un tempo quando ero bambino iniziavano anche alle 16 però adesso no veramente sempre alle 15.30 dove si rispetta perché se uno vuole andare al cinema di giorno non può uscire di notte non ho capito capito siccome no per far capire la gente che degli altri non gliene frega ne ne frega niente se tu sei vecchio sei giovane io attacchi cioè facci quello che dico io non il servizio al popolo al pubblico questo sto cercando di far capire alla gente poi quando sono venuto volevo mangiare quindi se volevo mangiare non ci hanno fatto neanche mangiare no volevo mangiare allora si dice ti sta una bella pizzeria ti mangiare quelle belle old dog si chiama pizzeria Smeraldo sei là chiusa alle 2.90 già chiusa ma madonna si dice come è alla pizzeria a Pescara stanno aperte fino alle 3.30 e riaprono alle 5.30 perché c'è i bambini che escono da scuola quello e quella si pisembra chiuso e vabbè la pizzeria è chiusa poi allora ho detto muovete a vedere se possiamo andare al teatro pure lo teatro è chiuso a questo punto sono detto frega dall'angiano stanno buono stanno una frega bene perché non hanno bisogno di lavorare come cussù cussù fanno un volume che di sangue dalla mattina esce da una parte e fanno un ristorante e dopo fanno le discoteche e poi alle 5.00 della mattina tu dici mo se va a dormire no fa la spesa per un ristorante e quando cazzo mi dice la giornata per cussù domanda dici ma è possibile lavoro 24 ore per dire poi però la gente giustamente si è fatta una macchina discreta dici cazzo cussù che va facendo con l'Audi c'è il macchinone ma l'anima delle mortacce ma a te che te ne frega capito la gente guarda invidia quello che tu hai è vero capisci il dramma di questi zozzoni andiamo avanti è vero intanto ecco